ok continuano a darmi appunto le ok grazie mille abbiamo finito no va bene ragazzi siamo qui su overwatch perché abbiamo visto che mi hanno dato delle ricompense per omaggiare la blizzard e world of warcraft neanche lo so perché me date quelle cose però me le hanno date io sono contento perché ok in più hanno messo la mappa nuova benvenuti all'oasi 6 di 6 io dovrei leggere un po le info perché sapete come non so un cazzo giocatori 12 mappa oasi affronta molti giocatori diverse nuove mappe gioca ok mappa nuova oasi non so nient'altro è la prima volta che ci sto entrando dentro quindi vediamo vediamo com'è la mappa la modalità di gioco penso che sia normal semplicissima però con la mappa nuova vediamo vediamo allora questa è una sala lampa e giocare all'ho le ore poi c'è tutto insieme la lavagnetta interessante qui possiamo sederci a mangiare porca sua madre mi hai mancato maialozzo a malattuto arriva da tutti i lati aiuto io dude potessi curarmi merci grazie va bene se io ci sono decimico così a gratis mi aiuto io guys va bene cazzo questo non è da nulla aia dove sono le cure non trovo le oh santi dio grazie abbiamo vinto 1 a 0 per nero gg grazie ciao volevi costruire la torretta tu ma dai che l'abbiamo preso aia addio addio maronne ma dobbiamo ucciderla mi sono spaventato ok ok non l'ho preso non l'ho preso oh male 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 aia questa volta l'hanno vinta loro ecco ecco che cazzo serve ho capito mi sono arrivati tanti di quei danni ma non te l'ho capito da dove mi ha buttato di sotto mi ha buttato di sotto è perso è perso dio la passiva e la trappola e abbiamo perso comunque vabbè ragazzi ne facciamo subito un'altra perchè che cazzo mi rappresenta sta partita però c'è morta con la passiva ah io mi sono ucciso da solo va benissimo dovresti morire che palle maledetto 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 sempre me viene a trovare il suo stronzo mio dio mio dio la mira mi sono bombardato da tre lati da davanti dietro e di fianco che cazzo ruota aboutdissimo Genji Non potevo usare le spell Volevo luttarli via Niente Mio dio che cosa è stata Un parto quel cazzo di ninja Mio dio Ma bene ragazzi e questo era Lo schifo giornaliero che vi ho portato Io che faccio schifo in una mappa nuova Siete contenti vero? E beh ovviamente nei commenti mi aspetto Tu fai schifo perchè non ci giochi molto Perchè giochi col joystick Non mi interessa va bene Voi siete bravi Bravi non frega niente In descrizione trovate sempre i miei social Al solito condividete i video più che potete Se non siete ancora iscriviti e noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi